...che invito sul palco la nostra Angela Ray, eccola qua, benvenuta cara, benvenuta, ciao. Era impegnatissima però ha detto no Felice vengo volentieri anche perché attualmente lavora col Giardino del Liscio di Reggio Emilia con Cristian Cavazzoli che anche lui è presente, ha detto vengo volentieri anche perché in questo circolo non sono mai venuta. Ma Cavallina, fai prima Zignago, ovigliac sacciap una volta e non ci prendo mai. Allora prima Zignago e poi subito dopo Cavallina prepara lo strumento, lei come buona serata, buon ascolto, la nostra Marina Ray, Angela Ray sì, ma tutte le volte dico Marina, chissà perché, ho fatto apposta stavolta, grazie, ciao. E ti ho detto Ivana, Angela mia Marina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti